Il fascino del ragazzaccio, del cattivo ragazzo, del bastardo tra virgolette alla James Dean miete vittime soprattutto tra le donne belle. Perché capita questo? Perché uomini maledetti tra virgolette, i cattivi ragazzi, che hanno un forte narcisismo, un'impulsività nei comportamenti, talvolta sono anche al limite degli psicopatici, diciamo così, sono un po' folli, molto narcisisti, strionici, hanno anche qualche volta comportamenti antisociali, seducono moltissimo le donne belle, che perdono proprio la testa, perché gli interrompono completamente uno schema. Le donne belle che sono abituate ad essere corteggiate incontrano personaggi irriverenti che non le prendono proprio in considerazione, anzi le umiliano, le disistimano, le calpestano emotivamente da un certo punto di vista, per cui fanno fare un surplus di emozioni. Per cui sono molto di più le donne belle ad essere soggette al fascino dei cattivi ragazzi rispetto alle donne bruttarelle che invece, diciamo, di emozioni da questo punto di vista sono più abituate a viverne, per cui vanno avendo già, essendo già spesso state rivoltate come un calzino, cercano più il bravo ragazzo, quello tranquillo, perché hanno bisogno spesso di avere un abbassamento del livello tensiogeno, del livello emotivo. Per cui se volete sedurre donne molto belle, createvi un look e un comportamento soprattutto da cattivi ragazzi, alla James Dean. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog http www.soluzionzip.com. Ciao a tutti!